Siamo pronti ad ospitare di nuovo la popolazione all'interno del centro commerciale e devo dire che anche i risultati economici, nonostante i problemi dovuti all'emergenza pandemica, sono soddisfacenti. Per questo forse allacciarci il superamento del Covid, un messaggio sociale di riscatto alla mostra di Maradona potrebbe essere un segnale di speranza per tutti. Un grande progetto di recupero di una memoria molto importante per la nostra città. Le foto di Siano rappresentano un mito, la nascita di un mito e un racconto molto delicato di quello che era la persona di Diego Armando Maradona. Racconta anche quello che può essere un progetto per tante persone che possono trovare nello sport un grande riscatto sociale. Maradona innanzitutto non è un ricordo, è una presenza, e lo è stata sempre, non solo per me in quanto napoletano, come cittadino, ma anche come fotoreporter perché io mi sono formato proprio fotografando Maradona.